Stai a fare la video? Ah Sisco, Sisco, Sisco! Ciao Sisco, buongiorno! Buongiorno, ascemo! Ciao Sisco! Sisco che siamo arrivati a casa! Guarda questa di un strutturale. Sisco è praticamente il fidanzato ufficiale di Cassandra. Il freddo di resta, mi torno, mi volete dire voi! Aiuto! E se arrivi, ma che è successo? Ma che è successo? Eccole! Hai firmato? Li hai filmato, Vittoria? Ti prego? Sì. Ok. Patryska? Ciao, sempre per te! Patti! Sì, perché lui... Vittor! ...è... 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 ...e... ...è... ...è... ...ì... ...è... ...e... ...è... ...è... Lui il è triste Non, 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 non. eeeh 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 batti oh la la attention guarda oh perché normalmente con un corse non c'è il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de mal avec qui parce qu'il y a un mal moi je pense qu'il y a un mal puisqu'il n'a pas tellement de choses c'est vrai ouais 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 j'espère que il n'y a pas de qui il n'y a pas de qui tant qu'elle est explique et tout mais après qu'à finir, ciao ma maman ciao